Musica Tenetevi ben forti alle sedie e ben aggrappati perché oggi vi parliamo della scuola come non l'ha fatto mai nessuno. Benvenuta la professoressa Antonella Di Bartolo, preside della scuola che porta il nome dello Sperone e del nostro ben amato presidente Pertini. La professoressa Di Bartolo controlla dal punto di vista manageriale sette scuole di quelli che la cronaca deve definire quartieri disagiati di Palermo. Ma prima di entrare nel dettaglio, per farvi capire che era professoressa Di Bartolo, io prego la regia di mandare subito questo contributo video. La professoressa Di Bartolo, preside della scuola come non l'ha fatto mai nessuno. Nel cielo, al di là delle nuvole, ci sono angeli che ci osservano, se ascolti ti parlano. In questa città nessuno sa che quando sul viso scendono le lacrime, quegli angeli si muovono, le asciugano, ti calmano. In questa città nessuno sa che il passato non ritorna, che un sorriso disarma, più di ogni radio vergogna. Un lato di cinema, tonno a Montinano, più di schifari. In questa città nessuno sa, angeli con grandi ali, figli di persone normali, immagine di nuovi ideali. In questa città nessuno sa che il passato non ritorna. Che un sorriso disarma Più di ogni radio vergogna Un'occo di cinema, Antonio Montinano Più schifani In questa città nessuno sa Angeli con grandi ali Figli di persone normali Immagine di nuovi ideali Emanuele Loi Vincenzo Limuli Claudio Traina Agostino Catalano Walter Cosina Angeli con grandi ali Figli di persone normali Tutti e tutti i mondi Immagine di nuovi ideali Ed ecco siamo tornati in studio Allora io Ma a me piace essere politicamente scorretto Chi ci ha seguito Infatti è stato molto scarico Chi non sa Chi sono Antonio Mentinario Emanuele Loi Valtettarini Antonio Cosina Cavoli suoi Andate a studiare Perché a noi non interessa Avere a che fare con persone Che non conoscono la storia Di questa città Di chi si è sacrificato Per questa città Grazie Professore Grazie Vedo la lacrimuccia Ma l'altronde Questa è Quella scuola Che noi vogliamo Siamo pezzi di cuore Veramente Ma questa è la scuola Che noi vogliamo Diciamo che Come dire Questo è chiaramente un testo La canzone ha vinto Il premio Falcone Sì Del 2018 Del 2018 Quindi anche abbastanza recente Sì E questi bambini Sono andati a cantarla Dal vivo In diretta Dall'Aula Bunker Il 23 maggio Quindi un momento Anche molto importante Non voglio fare il solito Stereotipo Della lotta alla mafia Ma questo è Impegno concreto Antimafia Perché lei ha portato Lei Il suo staff Perché diciamo Non personalizziamo Infatti Il distretto scolastico Ha portato Al quartiere Sperone Al quartiere Brancaccio La cultura antimafia Facendo sorridere i bambini Ci proviamo Ci proviamo Tanti insegnanti coinvolti Anche amici Che nel frattempo Li sono uniti In questa In particolare In questo progetto In questa avventura Una cosa bella Che è legata Anche a questo videoclip È il fatto Che il bambino Che ha interpretato Giovanni Falcone Che è Andrea Si chiama Andrea Che adesso È al secondo Liceo Quando siamo andati All'inaugurazione Dell'anno scolastico Con il presidente Mattarella All'isola d'Elba Per lui era La prima volta Che volava Quindi aveva Un po' di paura Hanno fatto Questi bambini Che ci siamo portati Il battesimo Dell'aria Con noi E mi ha detto Preside Perché eravamo accanto Ci temiamo Per mano Io da quando Ho interpretato Giovanni Falcone Ho una cosa dentro E io Questa frase Di Andrea Non la dimenticherò Mai Nel senso Che veramente A scuola Si fanno esperienze Indimenticabili Io penso Che ciascuno di noi Anche se è lontano Dalla scuola Si c'è un ricordo Esatto Ci sono dei ricordi Belli Che rimangono dentro E noi lo dobbiamo ringraziare Perché lei ha fatto in modo Che nel cuore Di questi bambini Il ricordo Che rimarrà impresso Per tutta la vita È quello di essere Dalla parte giusta Ed è difficile Però perché Diciamoci la verità Lei combatte Con un ecosistema Che gira attorno Che non è che L'aiuta molto Come dire A portare avanti Come dire I progetti Allora Il quartiere difficile Comunque Il contesto è complicato Ha tante Tante Diciamo Il quartiere sperone Mi perdoni se l'interrompo Sì Usciamo fuori Al solito cliché La retorica Il quartiere è complicato C'è l'ombra Il climità mafiosa Il climità organizzata Che ruote attorno Ma non diamo la colpa A chi vive in quel quartiere Perché quel quartiere È stato ghettizzato Per colpa dell'agenda politica Che ha calpestato i diritti Di centinaia di migliaia Infatti è un quartiere Il quartiere sperone Il quartiere brancaccio Sono sicuramente quartieri Messi al margine Non soltanto geograficamente al margine Ma messi al margine E mantenuti in uno stato di disagio Di bisogno E quindi Dico ma Proprio in questi contesti La scuola deve offrire Una Ecco Offrire delle occasioni Di riflessione Di immaginazione Di qualcosa di diverso Di migliore Ma non soltanto Per i bambini E le bambine Anche per i genitori Perché qualche volta I stessi genitori Si autolimitano Nelle aspettative Nei loro confronti E nei confronti Dei loro figli E invece Far vedere In che senso Mi perdoni Questo non l'ho capito Che sì Allora Molti genitori Cioè come se andare a scuola Fosse un lusso No Molti genitori Hanno anche delle aspettative Nei confronti Dei loro figli Limitate Come appunto Può bastare l'istruzione Come se ci fosse un destino Già segnato Già scritto Non c'è possibilità Esatto Di evoluzione Di emancipazione La famosa scalata sociale Esatto Di ascensore sociale Ascensore sociale E invece E anche con i genitori Che bisogna fare Questo lavoro Di autostima Che porta All'autodeterminazione E la scuola È veramente Una delle opportunità Principali Per intanto Acquisire consapevolezza Di sé Sapere fare delle scelte Sapere dire dei no E Quanto è difficile Far dire dei no In quei luoghi Dove l'omertà Ha regnato sovrana Per decenni È difficile Ma bisogna Condividere insieme All'interno delle classi All'interno Dell'ambiente scolastico Delle regole Di convivenza sana Di fiducia Di fiducia Che deve essere Dentro le aule Ma anche fuori Dalle aule Una delle Cose più belle Che penso Abbiamo costruito Tutti insieme Perché ovviamente Io sono qua oggi Ma Frontman O frontwoman Esatto Ci sono circa 170 docenti Che lavorano Ogni giorno In classe Con i bambini E i ragazzi E dunque A parte il personale Amministrativo Perché ognuno Svolge un compito Non soltanto importante Ma indispensabile Ma in questo percorso Mai dieci anni Che io sono là Una delle Delle esperienze Più belle Proprio legate Al rapporto Con i genitori Di fiducia Reciproca Mi perdoni Se le interrompo Lei ha parlato Di fiducia Reciproca Oggi è il giorno Delle papere Per me Questa non è Paperissima Sprint Tolco Sicilia Però Ogni tanto Come che capita È più bello Sia più umani Sia più umani Faccio errori Cerco di riannodare I fili Del mio ragionamento Lei è da dieci anni In questo distretto Che situazione Ha trovata Aveva trovato Quando è arrivata E quali sono i numeri oggi Faccio questa precisazione Perché Come dire Facciamo un poco di Corretta e sana promozione Al distretto scolastico E alla professoressa Di Bartolo Lei è camponessa mondiale Di contesto Alla dispersione scolastica Perché i numeri Non mentono E allora Abbiamo trovato Ho trovato una situazione Onestamente Complessa E ai limiti Della decenza Se vogliamo Perché Un tasso di dispersione scolastica Del 27,3% Nel 2013 Quando mi è stato comunicato Ho detto Ci sarà un errore di calcolo Perché non è possibile Che in un paese Che si dice civile Ci sia un tasso di dispersione Di questo tipo Ahimè era vero Ma era vero anche il fatto Che la scuola Pertini Era destinata Ma stiamo parlando Di scuole elementari E scuole medie Quindi un dato drammatico Materna elementare media Quindi all'infanzia Alla seconda e alla seconda Di primo grado Tutte scuole obbligatorie Cioè il dato Del 27% Rapportato rispetto A un obbligo Che non veniva rispettato Esatto Ma tra l'altro C'era anche un altro problema Ed è questa Stata la chiave di volta Ma anche dell'alleanza Col quartiere La scuola Pertini Che è un edificio Molto grande Era destinata Alla chiusura Perché c'era Soltanto un edificio Molto grande Che adesso ospita 31 classi C'erano soltanto 4 classi Di cui una sola Prima di 15 anni E 16 anni Ripetutamente Vandalizzata C'era stato anche Un incendio Nell'estate precedente A quando io Sono arrivata Esatto Insomma Una situazione Veramente complessa E A quel punto Io tra l'altro Arrivo lì Senza alcuna esperienza Di Come dirigente scolastico Non ero Neanche stata Il mio primo incarico Come vincitrice Ai concorso Però non venivo Da un lavoro Di vicepreside O di responsabile Di plesso Quindi Un po' L'incoscienza Un po' Il fatto comunque Di volere provarci No E Diciamo Abbiamo ricostituito Un gruppo Intanto Di persone Che potessimo Insieme Condividere Un certo percorso Virtuoso E abbiamo Provato a Rifondare la scuola E Proprio la scuola Pertini È stata Rifondata Dalla scuola Di infanzia Quindi Andando a Realizzare Rifondare Rifondare Interventi strutturali Ma anche Di metodologia No E allora È successo questo E la scuola Pertini Era una scuola media È centro territoriale Permanente Quindi istruzione Per adulti La sera C'era anche La scuola carceraria Dentro Pagliarelli Istruzione per adulti Che poi È passata I cipia In tempi Recenti Ma comunque Era una scuola media Ma con quattro classi A fronte di un edificio Di un edificio Immenso E allora Quando Io sono stata chiamata Dall'allora Assessora Evola Per parlare Dell'Apertini Mi è stato detto Beh la chiudiamo Il quartiere Non la vuole Io ho detto Assessore Che poi io mi sono trovata Comunque accanto Però l'inizio È stato Diciamo complicato Poteva non sapere Quello che stava succedendo E dunque Io ho detto Ma è una follia Chiudere una scuola A Brancaccio La Pertini È un segnale Di sconfitto Dello Stato Esatto Rifondiamola Come? Dalla scuola dell'infanzia Quindi Rifondandola Nel senso Facendo partire Un circolo virtuoso A partire dai tre anni In modo che Nella logica Dell'istituto comprensivo I bambini Rimanessero lì Dai tre Ai tre Ai tre Dici anni Esatto Che secondo me È una Ottima strategia Anche per combattere Anche per Fidelizzare le famiglie Esatto Per contrastare La dispersione Lei andando in giro Lei andando in giro Lei andando in giro per il quartiere Poteva spiegare alle famiglie Guardate Noi siamo presenti E accompagniamo i vostri figli Dall'asilo Dai tre ai quattordici anni E tra l'altro Andando a Diciamo Promettere Una scuola Che al momento Non c'era Perché era vincolata All'acquisizione Di cinquanta domande Di iscrizione Per una scuola Che non c'era Quindi era andata lì A fare una sorta Di campagna elettorale Sì Non solo Tanto io Ma anche Altri collaboratori Un collaboratore scolastico Che proprio addirittura Stava alle fermate Dell'autobus Per vedere Se c'erano Nonni O genitori Con bambini Di tre Quattro anni Che non frequentavano la scuola E così abbiamo fatto Perché aveva fatto proprio Un lavoro al setaccio È stato bellissimo È stata una bella storia E adesso la risposta del quartiere Nei confronti di questa realtà Che avete ricostruito Allora Uso plurale Come vede Sì esatto È bella Perché c'è una condivisione Con i genitori Io so che Qualsiasi iniziativa Noi facciamo La facciamo insieme La decidiamo anche insieme La canzone che avete ascoltato Che ha portato questi bambini In aula bunker Non è stata una decisione presa Dalla scuola Che ha deciso Di far fare questo E li ha accompagnati In questo percorso Abbiamo incontrato i genitori Abbiamo detto Di cosa si trattava Alcuni genitori Avevano anche delle storie Complesse Familiari complesse Ma hanno condiviso Questa cosa Questa avventura Spieghiamo cosa vuole dire La professoressa Per vicende complesse Sono quartieri Dove c'è un'alta densità Criminogena Sì E quindi chiaramente Genitori magari con un passato Penale Che però hanno consentito A questo passaggio Perché Gli avete spiegato Certamente Cosa avrebbero fatto La canzone lo dice Il futuro non ritornerà Quindi il taglio è quello Avete tagliato le radici Esatto E poi che Questi agenti di polizia Erano Nuovi ideali Quindi persone normali Come potevo essere io Fili persone normali Fili persone normali Come io Come Andrea Come Kevin Come i bambini Che si vedono Nel videoclip Ma che hanno come Nuovi ideali Dei poliziotti Dei poliziotti Che hanno scelto Di essere Agenti di scorta Quindi con l'assunzione Anche del rischio Anche con la piena consapevolezza Con la consapevolezza Non soltanto gli uomini di Falcone Sapevano il rischio I giovani Falcone Ma poi dopo la strage Falcone Gli uomini che sono rimasti Accanto a Borsellino A maggior ragione Cioè gli allarmi Che erano arrivati a Borsellino È arrivato l'esplosivo Il procuratore sapeva Non li avrebbero mai lasciati Neanche un secondo Esatto Ora è ovvio Che noi non siamo votati Al martirio Ma noi siamo votati Noi tutti Tutti O comunque Chi si occupa di scuola Deve essere votato Alla speranza Al futuro All'ottimismo All'immaginare Delle condizioni di vita Migliori E questo si può fare Dentro il fuoco Io oggi la sto interrompendo Anche perché abbiamo Soltanto 5 minuti E io devo togliermi Una piccola spina nel fianco Lei non le manda a dire No C'è questo caso Della signora finlandese Che ha tirato via I suoi bambini Dalla scuola Lei ha detto Guardate che ha ragione La signora Io devo essere Anche attirandosi Magari delle polemiche C'è stato E campanilismo nel difendere Come dire Le posizioni della scuola siciliana Perché diciamoci la verità Le cose che ha detto La signora finlandese Un po' le suonano come reali O realistiche Per lo meno Sì Intanto premetto che Io ho insegnato 17 anni E sono presidetta 10 Quindi nel momento in cui Questa famiglia finlandese Fa queste notazioni E c'è un po' Uno schieramento Pro o contro Io mi sento assolutamente Parte in causa Quindi intanto In una condizione di autocritica E diciamo Messa in discussione Cioè lei preferisce Che ci sia una critica costruttiva Piuttosto che rispingere Al mittente l'accusa Allora io preferisco sempre L'amico critico All'adulatore E secondo me Questo dovrebbe essere Diciamo L'atteggiamento Che dovremmo avere Nei confronti di questa vicenda Lasciando stare i toni Ma giustificandoli anche Perché comunque Ma non mi sembra Che sia andata oltre le righe La signora Ma comunque è una famiglia Che sta facendo le valigie Per andare via Quindi probabilmente Non è lo status emotivo ideale Ma comunque dice Delle cose reali Che non è possibile Che ci sia un apprendimento Consapevole Bello Una vita scolastica Vissuta Con serenità Con gioia Che sono delle condizioni Necessarie A me ha colpito particolarmente La riflessione che faceva Questa signora Dicendo Mio figlio Parla l'inglese Meglio del suo professore Ma questa Più che una responsabilità Del docente inglese È Dell'organizzazione del sistema Perché Ci sono docenti Che devono insegnare materie Di cui non hanno Come dire assolutamente Allora E questo è un tema Vogliamo parlare Delle riforme all'italiana Allora Quando Si parla Famolo strano Intanto Il discorso La critica E la fuga Direi che non è Tanto dalla scuola È capitato In Sicilia Ma poteva capitare In Calabria In Campania Io però Devo confessare una cosa Ho fatto una piccola ricerca In cui la famiglia In realtà sono un po' Dei giramondo Quindi Magari non riescono A mettere ragioni Ma questa è una cosa Anche bella Una cosa bella Io l'ho detto Con termini dei migratori Anzi come dire È una cosa bella Perché io Nella Anche esperienza personale Laddove sono stata All'estero per studio Open mind O per Adesso per progetti europei Erasmus Siamo andati in Grecia In Spagna Abbiamo Vedi E ti confronti Con realtà differenti E non provi A Diciamo Traslare Il metodo Finlandese O spagnolo O greco Ma si si cerca di capire Cosa c'è di buono Dobbiamo capire Che sollecitazioni Possiamo prendere Ovviamente Tenendo in considerazione Che si parla qua Di reclutamento Di insegnanti Diciamo Ordinamenti scolastici Quando io mi riferivo Alle riforme all'italiana Allora È possibile Insegnare inglese Alla scuola primaria Quindi alla scuola elementare Prima era possibile Con un corso Di poche centinaia di ore E adesso Sostenendo un esame All'università Allora È ovvio Che un insegnante A me veramente L'esame sostenuto in italiano Sostenuto dal calciatore La telecomatria Suarez Sì Io no Hablo italiano Allora È ovvio Che un insegnante Di scuola elementare Il più bravo Il meglio formato Non può essere Un tuttologo Allora Proviamo a Cercare Delle competenze Che è un po' paradossale Il mondo ci chiede Le iper specializzazioni Ma nel mondo della formazione Non c'è più C'è la banalizzazione Però questo ce lo dobbiamo chiedere Sono delle scelte a monte Delle scelte politiche In che senso Allora L'Italia deve capire Dove deve andare Dove Deve A parte dire Deve fare Fare Delle azioni Che dimostrino Quanto investimento C'è sul futuro Nel momento in cui In Italia Veniamo da decenni Di tagli Lei mi ha fatto in mente Le parole di Aldo Moro Aldo Moro Che secondo me Pagò il prezzo La sua vita Anche per questo tipo Di politica Disse una volta L'investimento Sulle scuole Non deve essere Considerato Quando si spendono soldi Sulle scuole Non si deve considerare Come una spesa Ma come un investimento Come un investimento E tra l'altro Purtroppo Il tempo La nostra situazione È finita Perché è volato via Ha visto Lei ha messo il telefono In modalità aereo Il tempo è veramente Si è volato via Però Faccioci una promessa Ci rivediamo Con piacere Veniamo a fare un servizio Per il telegiornale Con piacere Magari nel periodo In cui si ricordano Gli eroi Della nostra città Così vediamo Che canzone Tirate fuori Quindi ogni giorno Ogni giorno Quindi ogni giorno Purtroppo però Purtroppo ogni giorno No ma nel senso che Proviamo a farlo ogni giorno Certo Va bene Allora io ringrazio La professoressa Di Bartolo Auguro Grazie a voi Le migliori cose A lei Al suo staff A tutti gli studenti Grazie Ci rivediamo Alla prossima puntata Di Talk Sicilia Grazie Arrivederci